Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Dami, la mamma di Geronimo Stilton, che nacque tanti anni fa proprio in un ospedale pediatrico, per cui mi sento particolarmente vicina a questa iniziativa oggi. E vorrei mandare un saluto con tanto affetto a Giovanna Cavazzoni, la mamma ideale di tutti i bambini e le bambine che qui, in questo luogo meraviglioso di pace, d'amore e d'amicizia, troveranno sollievo. Grazie. Grazie.